Passiamo ora ad un'altra importante città, Preneste, che al giorno d'oggi si chiama Palestrina. Preneste era una città latina che entrò nell'orbita di Roma nel IV secolo a.C. Qui sorse, tra il 130 e il 100 a.C. circa, un ricco santuario dedicato a un culto locale della Dea Fortuna, e cioè la Fortuna Primigenia, che significa ricevuta dalla nascita. Fortuna è la Dea della Sorte, che dirige le vicende del mondo. Infatti nel mondo antico, come sapete, Fortuna non significa quello che intendiamo noi, la buona sorte, ma significa sia buona che cattiva sorte, cioè è l'incertezza e le oscillazioni della sorte umana. Questo che vedete è un disegno ricostruttivo del santuario della Fortuna Primigenia, che ormai è un po' superato, perché è stato realizzato nel 600. Se vedete i disegni più recenti sono un po' modificati, e mostrano anche che sulla cima, qui, doveva esserci un tempietto rotondo, che su questo disegno non è riportato, ma rende comunque l'idea. La Fortuna Primigenia era legata all'emissione di oracoli, con oscuri responsi iscritti su tavolette di olivo. Questo santuario era davvero magnificente e si ispirava a principi urbanistici dell'Oriente ellenistico. Nel II secolo a.C. ha inoltre iniziato una significativa ristrutturazione della città stessa di Preneste. Il santuario si rivolgeva scenograficamente verso la pianura, in modo da poter essere visto anche da grande distanza, ed era impostato su sette livelli su terrazze. La prima foto mostra ciò che si vede dal basso. Dopo gli angusti ripiani inferiori, la terza terrazza era fornita di una duplice rampa, che vedete fotografata dal basso nella seconda immagine, che era per metà scoperta e per metà porticata, che introduceva la quarta terrazza, che oggi è detta degli emicicli, di cui una parte era figurata nella terza foto. La prima foto rappresenta ancora i resti di uno degli emicicli. Davanti all'emiciclo orientale c'era una statua in marmo della Dea Fortuna, seduta con in grembo Giove e Gionone e Fanciulli. Questa statua segnalava il pozzo sacro dei risponsi della Dea. Nella quinta terrazza vi erano delle botteghe, e poi il sesto livello era formato da una grande piazza, circondata su tre lati da un portico corinzio che probabilmente ospitava un mercato nei giorni di festa. Un'ultima scala conduceva alla cavea del teatro e al superiore tempietto circolare, al cui interno vi era una statua in bronzo della fortuna. La folla dei devoti percorreva dunque uno ad uno questi livelli. Oggi domina i resti del santuario il palazzo della famiglia Barberini, costruito nel XVII secolo, con una facciata ad ampie sedere a centrale che riprende fedelmente la forma terminale del complesso santuariale. Le ultime due foto mostrano il pozzo di Palazzo Barberini che domina la sommità del santuario. Dopo tutte le conquiste che resero Roma una potenza nel Mediterraneo, vi fu un grande desiderio, da parte dei Romani, di appropriarsi della produzione artistica della Grecia classica e dell'enistica. L'arte doveva essere messa al servizio della nuova potenza. Così le botteghe di artigiani cominciarono a realizzare copie di capolavori greci o a sperimentare, creare varianze su di un modello, e i collezionisti raccoglievano tutti i capolavori che potevano. Così nel I secolo a.C. nacque una nuova visione artistica, che definiamo eclettismo perché porta ad accostare in una stessa opera parti realizzate secondo stili artistici diversi tra loro. Questa dell'eclettismo è la prima differenziazione dell'arte romana dall'arte medioitalica. Un esempio di eclettismo ce l'abbiamo nella cosiddetta Ara di Domizio e Nobarbo. Questa ara, che aveva una forma rettangolare, fu scoperta a Roma intorno al 1639 ed è ornata su quattro lati da due distinti freggi a rilievo, molto diversi per stile e per tema figurativo. Ora l'ara è divisa in due. La parte che vedete qui, e che dovete immaginare non spezzettata in questo modo per motivi di spazio ma continua, è uno dei lati lunghi, conservato a Monaco, dove ci sono anche due lati brevi. L'altra parte, che vedremo dopo, è il secondo lato lungo ed è conservato a Parigi, al Museo del Louvre. In realtà l'identificazione di quest'opera non è proprio certa. Potrebbe non trattarsi di un'ara, cioè di un altare, e potrebbe non centrare nulla con la famiglia degli Nobarbi. Siccome un membro di questa famiglia, un Domizio Nobarbo, console del 125 a.C., aveva ricostruito un tempio di Nettuno già esistente nel III secolo nell'area del Circo Flaminio, quando nel Secento fu ritrovata in zona questa cosiddetta ara, che su questo lato ha per protagonista Nettuno, si mise in relazione con dei vicini ruderi al di sotto della chiesa di San Salvatore in campo che si pensava appartenessero al Tempio di Nettuno, e così la chiamarono l'ara di Domizio Nobarbo. Andiamo ora ad analizzare le rappresentazioni di questi rilievi. Su questo lato lungo che vedete, e che continua sui due lati brevi, vi è una scena marina, un Tiasos marino, che raffigura il corteo noziale di Poseidone e Anfitrite. Poseidone, ovvero Nettuno, è infatti il dio del mare, e Anfitrite, anche l'area del mare e sposa di Poseidone, era una delle Nereidi, cioè le ninfe marine del Mediterraneo. La processione su questa faccia principale avanza solennemente da destra, per celebrare le nozze della coppia, che siede su di un carro, trenato da tritoni suonatori. I tritoni sono creature marine con il capo e il busto umano, e la parte inferiore del corpo di pesce. Il corteo è accompagnato anche da Nereidi su animali marini. In più ci sono piccoli amorini che tengono in mano le briglie degli animali. Questa scena è molto allegra e festosa, grazie alla vivacità di movimento, mentre ogni particolare è reso in maniera realistica, ed è per questo che la ruota del carro noziale è ovale, invece che tonda, cioè questo è un trucco prospettico che è stato usato per suggerire il movimento e l'avvicinarsi del corteo. Questa parte del rilievo è quindi di gusto ellenistico, e probabilmente è opera di artisti greci che risiedevano e operavano stabilmente a Roma.